dai Ale 1. non allargare le mani 2. prona un po' di meno 3. più spinta 4. incastrati sotto 5. lascia cadere veloce 6 7. veloce quella spinta scende di più 8 9. perfetta questa è la top 10 11 12 12 13 14 veloce il gomito destro 15 16 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 23 veloce la spinta scendi spingi con le gambe scendi tutto su poi 24 25 bravo 26 27 27 28 dai l'ultimo minuto veloce vai 29 29 30 30 dai forza 1 veloce adesso non guardare più il tempo vai e basta stacca la testa 1 2 su 2 talloni talloni sbatti su 3 vai 1 2 su 4 1 2 5 dai ce li hai 1 2 3 su 6 brava 46 6